C'è un posto riservato per te nel Super Weekend di Sky Sport. Si parte sabato dal campionato dei sogni. In Premier c'è Newcastle Arsenal. In Serie A sfida tra presente e passato con Monza Milan. Domenica sveglia con il Gran Premio della Malesia. E nel pomeriggio la finale dell'ultimo ATP 1000 dell'anno a Parigi-Bercy. Si chiude in pista con la Formula 1 in Brasile. Prendi il tuo posto nel Super Weekend di Sky Sport. Il più grande spettacolo del mondo.